Era una Krono che mi piaceva, l'ho provata stamattina e diciamo che ho avuto anche piacere a provarla. C'era un po' di vento ma sapevo che la mia Krono finiva in cima alla salita e così è stato. Quel bilan ti tirate? Una settimana super positiva, con una vittoria che era quello che cercavo. E' una bellissima classifica, un gran lavoro di squadra, abbiamo vinto anche classifica squadra. e quindi penso che posso finire questa prima parte di stagione molto contento. Ora che è il punto per voi di riposare la volta? Sì, farò un po' di stacco, poi mi preparerò in altura per la volta e dovrei fare Tour de Raine prima della volta.